Il coordinamento autonomo 9 dicembre di Mazzola del Vallo si riunisce nella sua sede di Via Salemi con le varie categorie di Mazzola del Vallo per sentire le varie problematiche per organizzare questo corteo anche a Roma. Lei è un commerciante, quali sono le problematiche che sta esternando questa sera? Le problematiche del commercio sono quelle che ovviamente si sanno, che si lavora poco, però le spese sono tante e non riusciamo più ad affrontarle queste spese, perché in effetti penso che ci hanno messo alle strette, essendo che c'è questa crisi che le persone non riescono più a arrivare a fine mese, non riescono più a comprare, per cui non riusciamo più a guadagnare i soldi per poter mantenere la famiglia. E allora che cosa possiamo fare noi? Possiamo solo fare sentire la nostra piccola protesta, di dire ma che cosa dobbiamo fare per poter riuscire a portare qualcosa a casa e per poter mantenere la famiglia? Perché le spese sono sempre di più, perché l'imo è sempre più alto, la tassa sull'immondizia è sempre più alta, le spese sono sempre di più e questo noi non ce la facciamo. Io per dire mi ritrovo in famiglia una figlia che va all'università e un'altra figlia che va a Castelvetrana a scuola e ci vogliono i soldi per poter mantenere la famiglia e questi non si trovano questi soldi. Allora cosa c'è da fare in questo momento? I politici di queste cose ne hanno sentite sicuramente e tantissime ne hanno sentite persone che hanno problemi, però loro sono sordi perché loro sono seduti nelle poltrone, sono seduti dentro questi palazzi belli caldi, belli luminosi, per cui non riescono a capire la problematica che può avere il popolo, la problematica che può avere la società. E allora c'è bisogno che si danno una smossa, c'è bisogno che le loro coscienze iniziano a capire il problema della società. Lei andrà a Roma in corteo assieme agli altri? Sì, io andrò a Roma in corteo assieme agli altri a cercare di sensibilizzare questi politici che dicono che la crisi è passata, ma forse è passata dentro le loro case la crisi, ma nelle nostre case la crisi ha veramente raggiunto livelli che effettivamente è irrespirabile. Diciamo che si sta male a casa, abbiamo tutto il stomaco girato, non possiamo più mangiare perché lo stomaco non riceve questo cibo, perché siamo innervositi, perché non stiamo belli e rilassati come una famiglia dovrebbe essere, ma siamo molto, ma molto disturbati. Allora è giusto che ci facciamo sentire e che loro ci ascoltino e che subito prendono provvedimenti, perché è da tempo, è da tempo, è da tempo che loro ci dicono sì, stiamo prendendo provvedimenti, ma non hanno fatto niente e continuano a non fare niente. Ci danno solamente notizie, ci danno solamente parole, sono solo parole. Ora loro devono passare ai fatti, così i sacrifici come abbiamo fatto noi, li devono fare pure loro i sacrifici. Ora prendono i soldi che si sono presi, prendono un mastro pasqua con tutte le notizie che sappiamo, incarichi, 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 soldi che entrano dentro le loro tasche. Ora devono prendere i soldi e ridistribuirli al popolo. Loro parlano di giustizia, loro parlano, però non parlano mai di uguaglianza sociale. Questa parola, uguaglianza sociale, è un pochettino superata dentro le loro menti e dentro le loro case. E questo deve nascere dentro di loro. Sono in molti questa sera per discutere appunto le problematiche sociali che si vivono ogni giorno. sono accanto a me un commerciante, un impiegato statale. Cosa chiederete quando andrete a Roma? Cosa vi aspettate? Ma si dice da tempo di cambiare, di cambiare, però io vedo pure una certa rassegnazione alle persone perché i politici non danno nessun segno di cambiamento, si continuano a fare ciò che vogliono. Non so per cosa continuano a fare questa cosa perché ogni giorno che si passa la situazione diventa sempre più critica, più drammatica e le tasse che arrivano non si capiscono più quali sono. Si chiamano TARES, si chiamano TAS, si chiamano IMO, non hanno più che nome mettere nelle tasse. Io penso che sono mai sul punto di prendere una decisione perché io guarda vedo un futuro nero. Io sono convinto che per l'estate in Italia esploderà una polveriera abbastanza forte perché per ora c'è ancora chi lavora e quindi queste persone che lavorano ancora stanno calme perché dicono abbiamo un lavoro, anche se non si riesce ad andare avanti, si soffre. Però tutto il momento abbiamo un lavoro e andiamo avanti. Però piano piano, continuando questa situazione, il lavoro lo perderemo e lo perderanno tutti. Ancora queste persone non l'hanno capito, tutte queste persone che lavorano ancora non vogliono entrare nell'ottica di scendere in piazza perché sono convinti che tutto passerà. Invece non passerà niente perché non c'è nessun segnale di ripresa e la cosa peggiore ancora è che non c'è nessun segnale da parte del governo di cambiare questa politica economica che ci ha portato al collasso perché la crisi teoricamente non c'è. Perché basti che iniziamo a togliere questo famoso patto di stabilità questo famoso patto di stabilità e iniziamo un pochettino tutti a respirare perché il patto di stabilità l'Europa ce lo impone solo a pochissimi stati membri dell'Unione Europea e non tutti 24. E poi io lancio un invito a tutti coloro che dicono di rappresentare il nuovo in Parlamento perché non propongono una legge dove come per i mafiosi venga fatta la confisca dei beni per tutti quei politici che si appropriano dei soldi che non sono loro. Se la magistratura si accura che quel politico ha rubato e non può restituire i soldi che scatti il sequestro dei beni perché è assurdo sentire persone come Rifiorito che prende milioni e milioni di euro e dice che ci spetta, va tranquillo, vita alizio e qui persone che 800 euro al mese di pensione non sanno più come fare la gente sta scappando tutta, hanno fatto vedere l'immagine che la gente va in Bulgaria a vivere e fa la vita da pascià. In Italia non può campare più nessuno, i costi del lavoro non si può più assumere un impiegato costa troppo, siamo sull'orlo del fallimento chi lavora non paga le tasse, è inutile che si nasconde chi lavora non può pagare qualche cosa, deve mettere da parte qualche cosa io lo dico tranquillamente, apertamente io ancora oggi mi sento orgoglioso di non avere pagata la Tare e San Mazzara del Vallo ma pure per un altro motivo non l'ho pagata io voglio sapere, scusate che lancio questo appello questa sera che fine hanno fatto i soldi delle persone che portano la raccolta differenziata in via Marsala perché non l'ha scalata dalla Tares, anziché l'avete aumentata la gente non ne può più, basta, iniziate a prendere provvedimenti io ho lanciato un appello che dicevo quando una persona non può più gestire il proprio comune chiama a Roma, chiama a Palermo e dice non possiamo gestire più il comune questa manifestazione del 9 dicembre come alcuni vogliono boicottare, che dicono non serve a niente non andate, non andate, è una manifestazione del 9 febbraio scusate, è una manifestazione importante perché la voce della protesta deve arrivare dentro la stanza del Parlamento dove questa gente si sta portando alla fine, all'osso quindi spero che a Roma saremo e saranno in molti Lei è un impiegato statale e molti pensano che voi siete tra i pochi che non sono poi così tanto colpiti dalla crisi invece come vivete questa crisi, cosa chiedete, quali sono le vostre esigenze? Allora, le vostre esigenze sono quelle che soprattutto pensate per il giovane io sono qua perché mio figlio tre giorni fa è partito dopo aver girato tutta l'Italia per un posto di lavoro che non l'ha trovato è partito per l'Australia ho visto in realtà nel Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna che il tempo fa il lavoro c'era, adesso non c'è più ho visto la realtà di un ragazzo che dopo un mese di lavoro ha guadagnato 1000 Euro a Verona e allora ho capito che purtroppo l'Italia è finita una volta si partiva per Nord Italia per lavorare invece adesso anche lì non c'è più niente Lei parteciperà al corteo giorno 9? Sì partecipo, sì partecipo non per me ma soprattutto per i giovani C'è una dichiarazione da fare che c'è un minimo garantito che si deve guadagnare di 1350 euro mensile si arriva e si fa una spartuta da 4 mesi e si guadagna 1500 Euro a persona mi dovete dire come si può campare una famiglia di 4 persone con una persona che sta in casa in affitto Il lavoro in mare è pesante? Si lavora 24 ore su 24 non c'è stegua ora siamo arrivati che si mancano 4 mesi di casa a lavorare sempre notte e giorno notte e giorno, notte e giorno e il guadagno c'è per l'armatore ma per i marittime niente da fare mi dovete dire come si deve campare Lei parteciperà giorno 9 al corteo? Ci sarò Bene, allora vediamo che qua su Mazzara c'è molta voglia di partecipare al corteo che ci sarà giorno 9 tra l'altro abbiamo visto che sono molti pullman che sono stati messi a disposizione del coordinamento 9 dicembre pullman gratuiti quindi tutta la cittadinanza che vuole partecipare può recarsi qui al presidio di via Selemi a Mazzara del Vallo di fronte a esso